Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti L'inimitabile, imprevedibile e intramontabile Ciriaco De Mita e la sua passione smisurata per la politica. Pensate, non pago del suo impareggiabile attivismo in Irpinia, ieri l'altro se ne è andato in trasferta a Pozzuoli per sostenere il giovane e bravo candidato sindaco Sandro Cossiga. Nessuna parentela con la buonanima dal Cepposardo è già presidente della Repubblica, ma il leader Udc non ha saputo trattenere la battuta cattiva. O ricordi tanto spiacevoli di Francesco, ha detto, che ogni altro Cossiga è migliore. Ai ai ai, Ciriaco, attento a non stimolare i ricorsi storici. Da qui a cent'anni anche l'Irpinia, di Iraq e di Te ha tanti ricordi spiacevoli che ogni altro De Mita, eccetto uno, ovvero il tuo nipote preferito, è stato migliore.